Nelle stanze della Casa Museo Scaglione l'eleganza indiscussa delle donne vissute tra l'Ottocento e i primi del Novecento. È stata inaugurata ieri sera la mostra dal titolo Vento di Donne, organizzata con grande passione da Betti Scaglione Cimò. L'importanza di questa serata è storica, perché c'è un ritorno al passato di queste donne, questi costumi bellissimi, che l'amico Dalac ci ha messo a disposizione per poter realizzare questa mostra. Allora, intorno al passato è un po' sentimentale, nel ricordo di queste prozie e del mio nonno Nenè, che erano molto legati e che io ricordo con grande affetto. Questa mostra io personalmente l'ho voluta tantissimo più col cuore che con la mente, ma l'ho dedicata a loro. Parlare delle donne ne ha parlato Milko, parliamo invece di piccoli avvenimenti, eventi che si succederanno. Se tutto andrà bene, sempre per poter mantenere vivo il ricordo e la volontà di queste donne che hanno donato questo bene alla città di Sciacca. Un tuffo nel passato, grazie ai preziosi abiti antichi e agli eccessori di cui mai avrebbero fatto a meno le signore del tempo, che Milko Dalacchi ha messo a disposizione della mostra al Museo Scaglione, frutto del lavoro di ricerca di 30 anni. Noi dalle donne del passato possiamo soltanto apprendere il buon gusto, l'eleganza, la raffinatezza, l'equilibrio al momento opportuno. Stasera si festeggia la donna, non a caso è la notte di San Lorenzo, chissà quante ragazze hanno guardato le stelle e hanno sperato in passato nella realizzazione dei loro sogni, forse alcune non sono riuscite in questa realizzazione, altre ci sono riuscite. Questa sera parleremo di donne, di donne nella storia, di donne del passato, a partire dalle donne quelle siciliane, forse le più antiche, dalla contessa dell'Asia degli Aleramici, alla contessa Gaetani di Naro della fine dell'Ottocento, a donna Franca Florio, alla contessa di Castiglione. Spazieremo solo donne, 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 donne. La mostra inaugurata ieri sera offre uno spaccato della società del tempo attraverso l'eleganza fatta di ricercatezza, di pizzi, merletti, abiti antichi, ventagli e cappelli. La Casa Museo Scaglione, gestita da poco dalla cooperativa Gorà, rappresenta la location ideale per la mostra di abiti d'epoca che potrà essere visitata tutti i giorni, dalle ore 9 alle 13 e dalle 16 alle 20. Questo è un primo evento di una serie che noi intendiamo portare avanti proprio all'interno di questo spazio. Proprio l'idea di base è quella di dare una fruizione diversa di questo museo, che non sia più un museo polveroso, ma un museo che si rinnovi nel tempo con delle mostre che si susseguono con tantissime bellezze che abbiamo a Sciacra e abbiamo in Sicilia. In questo caso devo ringraziare Betty Scaglione, che mi è stata veramente vicina nell'organizzazione di questa cosa, e il grandissimo collezionista Mirko Dalacchi, che se non fosse stato per la sua collezione non si sarebbe potuta realizzare questa mostra. Grazie a tutti.